anita olivieri smaschera l'ex edoardo e nicole murgia si frequentano da marzo alle prove ma non me ne frega niente anita recentemente si è lasciata con alessio falsone con il quale si era conosciuta dentro il programma grande fratello dopo che si sono lasciati lei è andata a torino dove vive anche il suo ex che abbiamo visto al grande fratello ossia edoardo sanso si sa che i due si sono risentiti ma poi abbiamo saputo che lui è andato in vacanza con nicole murgia in questo video anita olivieri fa delle accuse molto pesanti a nicole murgia edoardo sanso dicendo che hanno iniziato a frequentarsi quando lei era ancora reclusa dentro la casa ecco le sue parole io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi mi sono arrivati riguardo a questa situazione riguardo a questi soggetti eccetera eccetera allora io ci tengo a dire per chiudere perché veramente non mi interessa cioè non mi interessa niente ci tengo a dire a parte gli scherzi no che uno poi ci fa ironia però che io non sono stupida cioè io so tutto io ho le prove di tutto mandate da gente vicino a loro ma lo so da una vita cioè non è adesso è molto prima hanno iniziato a marzo quindi cioè non pensate di fare pensa a me perché io so tutto io ho le prove consiglio solo a queste persone di non fare le vittime oppure non stare lì a dire perché mi ha rovinato la vita oppure mi può rovinare la vita quando sanno perfettamente che persone sono e cosa ho fatto mentre ero nella casa non ci sono santi i santi stanno in cielo quindi io ho tutte le prove probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano chiaramente ma non ci faccio niente non mi interessa vivessero la loro vita dico solo di stare attenti perché c'è tanta merda intorno a questa gente tanta proprio a questa gente Grazie a tutti